Musica Una giornata importante per il nostro territorio dove finalmente le istituzioni enti locali, quindi i comuni con Ferrovie della Calabria, in questo caso è un'interfaccia regionale, in quanto essendo proprietà della regione si trovano di fronte per poter parlare di territorio e delle problematiche del territorio che ormai da più di dieci anni coinvolgono i nostri territori. Finalmente riusciamo a arrivare ad una quadra delle problematiche, che apprendiamo dal direttore generale che ha avuto i fondi per poter in qualche modo eliminare i sistemi franosi che interrompevano la linea sulla Cosenza-Catanzaro, in particolare nel tratto che va da Rogliano a Soveria, e registriamo un impegno da parte sempre di Ferrovie di poter anche sbloccare il discorso che sta bloccando attualmente il traffico tra Soveria e Catanzaro per la frana di Gimigliano. Sono queste risposte importanti per i nostri territori che stanno facendo ormai un percorso da tempo sulle aree interne e dove però la problematica che si evidenzia, ed è la prima problematica in assoluto, è quella proprio dei trasporti, quindi la mancanza di infrastrutture e in particolare dei trasporti. Questa credo che possa essere, se risolta, una risorsa fondamentale per lo sviluppo dei nostri territori è la base di qualsiasi strategia di sviluppo per gli stessi. Siamo molto contenti di queste notizie e speriamo che in tempi brevi si possano concretizzare in quindi gare, affidamenti dei lavori e quindi riapertura della ferrovia stessa.